Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato all'unanimità una proposta di risoluzione che vede al centro le criticità prodotte dal sovraffollamento delle classi e sulla richiesta di attivazione dell'organico Covid anche per l'anno scolastico 2021-2022. Ad illustrarla all'Aula la Presidente della Commissione Cultura Cristina Giacchi del PD che si è concentrata sul dimensionamento della scuola pubblica, un sistema di norme complesso, fermo al 2009. La quinta Commissione ha proposto all'Aula una risoluzione che impegni la Giunta a chiedere al Governo due cose fondamentali. Una è la revisione della norma regolamentare che governa il dimensionamento della scuola, cioè che stabilisce il numero minimo e massimo di alunni presenti nelle classi, perché questa norma è vecchia ormai di molti anni e l'ultimo aggiornamento risale al 2009 e chiaramente non tiene conto delle necessità di distanziamento tra gli studenti che invece il Covid ci ha imposto e che ha visto la didattica sospendersi quando questo distanziamento non poteva essere garantito. Allora chiediamo che venga rivista questo limite e venga abbassato in modo che le classi siano composte da meno studenti e che si possa garantire la frequenza e presenza in sicurezza. L'altro punto fondamentale nell'attesa che avvenga questa importante modifica normativa è che venga predisposto anche per quest'anno l'organico Covid, il cosiddetto organico Covid, cioè un contingente di insegnanti in più che consenta di fare più classi con minor numero di alunni per classe. Questa è una risposta di breve periodo, immediata, chiaramente implica un impegno di risorse importanti per il Ministero di Istruzione, ma crediamo che il bene e il valore della didattica in presenza siano da tutelare e da salvaguardare in ogni modo con la ripresa di settembre. Per questo la Quinta Commissione ha proposto all'Aula, approvandolo all'unanimità, un provvedimento che chieda di attivarsi incisivamente con il Governo per ottenere queste due modifiche. Una di breve periodo, ripeto, è una di più lungo periodo che consenta di ragionare strategicamente sulla scuola con maggior cautela e attenzione. Sicuramente sono delle misure che sono utili, ma dobbiamo pensare naturalmente a quello che è poi anche il benessere degli studenti all'interno delle loro aule. E credo che sia necessario a questo punto cominciare a pensare anche a delle soluzioni differenti e modulari per gli spazi nel quale i ragazzi vengono accolti. Questo non soltanto nell'ottica dell'emergenza Covid e del necessario distanziamento, ma anche per un benessere degli studenti e degli insegnanti all'interno delle aule e delle scuole. Bisogna dire che la Regione Toscana, da questo punto di vista, non è sicuramente ben messa, perché abbiamo moltissime scuole, moltissimi istituti che non rispettano nemmeno i requisiti minimi e questo lo avevamo verificato con dei sopralluoghi che avevamo fatti negli anni scorsi. Quindi si parte da una situazione piuttosto negativa, decisamente, e sarà necessario quindi un'accelerazione da questo punto di vista, perché non credo sia possibile accogliere di nuovo gli studenti in condizioni inadeguate con il nuovo anno scolastico. Studenti che hanno sofferto veramente molto per la didattica a distanza la mancanza di socialità in questo periodo e il contatto diretto tra di loro e con gli insegnanti. Quindi tornare prima possibile alla didattica in presenza e al 100% e garantire anche la sicurezza deve essere una delle nostre priorità. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una mozione sull'uso dei test antigenici salivari per gli studenti per l'apertura delle scuole in sicurezza. L'atto è stato presentato da Stefano Scaramelli di Italia Viva e da Cristina Giacchi del PD e impegna la Giunta regionale ad adoperarsi alla luce delle ultime indicazioni del Ministero della Salute per predisporre e consentire l'utilizzo del test antigenico salivare in tutte le scuole toscane per renderle sicure e garantire così la didattica in presenza, migliorando la capacità di monitorare e tracciare la presenza del virus all'interno della comunità scolastica. Sì, bisogna lavorare fin da subito per consentire una ripartenza della scuola quando terminerà l'estate, nelle condizioni che mettano veramente i ragazzi di poter lavorare bene, in presenza fare tutte le misure, adottare tutte le misure che consentono soprattutto ai ragazzi di stare in classi a distanza, avere docenti, un numero congruo, ma soprattutto un atto importante, il nostro, quello che porta all'utilizzo dei tamponi salivari come grande elemento di novità. Tamponi salivari è una cosa semplicissima, basta masticare come fosse una gomma, tempo pochissimi secondi, si ha la risposta, non è invasivo, si può fare anche più volte durante la giornata, si può fare prima di entrare, prima di uscire, ed è un meccanismo semplicissimo. Questo atto è importante e abbiamo chiesto che la regione toscana sia apripista su questo percorso, per le scuole, per la didattica in presenza, ma anche per lo sport, per i centri educativi, per i centri di socializzazione, per la ripartenza di un quadro di normalità che quando sarà a settembre ci consentirà quindi ai ragazzi di avere delle opportunità di stare in presenza senza dover sottoporre al tampone o senza fare eccessive livelli di precauzioni così come avviene di fatto nel mondo dello sport professionistico, adesso si potrebbe fare perfino nello sport e nelle scuole con tamponi salivari e questo sarebbe un elemento di grande novità. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una risoluzione presentata dalla Commissione Cultura presieduta da Cristina Giacchi del PD per sostenere il consolidamento dell'offerta degli istituti di istruzione tecnica superiore toscani per dare una risposta logica e consona ai bisogni formativi e rispondente alla domanda di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche da parte del tessuto imprenditoriale dei singoli territori. La risoluzione impegna la Giunta regionale a continuare nel sostegno al sistema regionale toscano degli istituti di specializzazione tecnica post diploma da considerarsi strumenti essenziali anche per garantire una proficua emissione nel mondo del lavoro. Questa risoluzione nasce da un lavoro lungo fatto dalla Quinta Commissione di un percorso di audizione di tutti i soggetti interessati e di ascolto delle istanze dei territori. La formazione professionale terziaria, cosiddetta, cioè di livello superiore paragonabile all'università ha avuto un forte impulso in questi anni e adesso è in corso una riforma nazionale della legge istitutiva degli ITS e anche un forte incremento dell'investimento in questo settore di formazione che nasce dal PNRR. Quindi con la nostra risoluzione anch'essa approvata all'unanimità abbiamo chiesto all'Aula di sollecitare la Giunta nel monitorare l'avanzamento della riforma e nel dare ascolto ai territori toscani, a tutte le province, ai settori industriali perché si dia risposta al bisogno di formazione professionale e di specializzazione professionale con i profili che interessano poi alle imprese che debbono assumere i ragazzi formati. Questa risposta non nasce necessariamente da un aumento delle fondazioni che sono lo strumento giuridico che è adoperato per realizzare questi percorsi formativi ma magari da una loro migliore articolazione e da un aumento dei corsi senza aumento delle fondazioni. Questo starà al Governo e alla Regione deciderlo. Noi chiediamo che questo settore sia tributario di forte attenzione perché ci sembra strategico e buoni risultati ottenuti finora senza altro da sostenere. Gli ITS sono gli istituti tecnici superiori a cui si accede con un diploma, quindi sono rivolti a ragazzi diplomati fino a 29 anni. Sono istituti particolari perché sono specifici delle varie filiere tipo la filiera dell'oro, la filiera della pelletteria, dell'agroalimentare eccetera. In Toscana, così come in tutta Italia, sono gestiti da fondazioni a cui fanno parte comuni, enti locali, camere di commercio, privati anche, che gestiscono questi corsi. C'è in questo momento alla Camera una legge per cambiare un po' qualcosa perché si è visto che in Italia sono poco frequentati. Per farvi un esempio, in Germania sono un milione di ragazzi che li seguono, in Italia 20.000. Quindi si deve cercare in ogni modo di farli conoscere. Probabilmente quello che manca è anche un orientamento per i ragazzi delle scuole superiori, per far conoscere l'esistenza di questi istituti dove i ragazzi fanno scuola-lavoro, quindi gli insegnanti sono per la maggior parte del mondo produttivo, poi ci sono anche insegnanti dell'università eccetera, e poi fanno degli stage nelle aziende del territorio. Quindi sono molto importanti proprio perché chi esce da lì all'80-85% trova lavoro. Noi chiediamo con questa proposta di risoluzione che la Regione Toscana continui a incrementare, a dare quanto dava gli altri anni per gli ITS, anche perché nel PNRR ci sono, mi sembra, 1,6 miliardi a disposizione proprio per questo tipo di istruzione superiore. E quindi bisogna farsi trovare pronti affinché i nostri giovani riescano a frequentarli perché si tratta poi di lavoro quasi sicuro. È stato fatto un dibattito anche all'interno della Commissione Europa per quanto riguarda gli istituti tecnici, l'ITS e la formazione professionale. Questa formazione è sicuramente fondamentale ed è necessario improntarla nel modo migliore. Migliore significa che è fondamentale sì la professionalizzazione specifica per un certo mercato del lavoro che è in continua evoluzione, va ricordato, ma è necessario anche che all'interno di questa formazione le soft skills, quindi quelle capacità trasversali che spesso anche la scuola ordinaria trascura un po' all'interno dei suoi programmi, vengano sviluppate perché saranno fondamentali anche all'interno di un mercato del lavoro che, come abbiamo detto, è in continua evoluzione. Ed è necessario anche monitorare la qualità dell'insegnamento che viene appunto esercitato per tramite del lavoro delle fondazioni, quindi è necessario monitorare dal punto di vista economico come vengono spesi queste risorse e la qualità della formazione che viene fatta. Questo è fondamentale non soltanto adesso ma anche per il futuro per modulare meglio l'offerta formativa che viene data. Gli ITS sono degli istituti di formazione importante, di istruzione secondaria superiore che consentono ai ragazzi, una volta usciti dalle scuole superiori, di avere un percorso formativo che consente loro di avere anche una specializzazione per entrare subito nel mercato del lavoro, per arrivarci in maniera professionalizzata, per fare anche dei percorsi di crescita personali. Esistono sette fondazioni in Toscana, tante dei risorse comunitari che verranno investite nei prossimi anni. Noi chiediamo un potenziamento di questo sistema che ha funzionato, che dà delle percentuali di occupazioni altissime, che consente comunque ai ragazzi di continuare a formarsi, di crescere, quindi di avere un processo di cultura costante ma nello stesso tempo interazione pubblico e privato, imprese e regione, per cercare mediante questi processi di formazione di consentire di avere dei percorsi di inserimento lavorativi mirati in base ai settori produttivi che necessitano di formazioni professionali. Quindi a nostro avviso è un meccanismo che va incentivato non tanto in termini di numero di fondazioni quanto come numero di attività e di settori che possono appunto dare un percorso formativo importante ai ragazzi. Nel comune senese di Castelnuovo Berardenga arriva l'edizione 2021 di Calici di Stelle alle stelle dello spettacolo, due serate in Piazza Marconi, il 6 agosto con i protagonisti e i premiati, il 7 con la Musical Night di Prosa e Teatro Musicale e la partecipazione di alcune tra le più importanti personalità italiane dello spettacolo dal vivo. Il premio, al suo secondo anno, è caratterizzato dalla genesi che lo ha visto nascere e svolgersi l'8 agosto 2020 a Castelnuovo Berardenga, in piena pandemia e dalla filosofia che lo anima e che unisce le eccellenze italiane. Sono contento di poter essere oggi qui ad ospitare l'ennesimo momento di ripartenza della nostra regione. Davvero è un onore e ringrazio la collega Anna Paris per averci segnalato l'iniziativa, quella di poter raccontare quello che è chiamato il premio stelle dello spettacolo. Dicevo qualche giorno fa che finalmente, sono i 700 anni di Dante, torniamo a rivedere le stelle, non torneremo a rivedere le stelle. È un momento bello, importante, un momento in cui bisogna saper raccontare con rispetto e la sicurezza nostra e delle persone che partecipano quella che è davvero un territorio fatto di tante bellezze, bellezze non solo da poter gustare con gli occhi, ma da poter gustare anche con l'olfatto, con il sapore, con la bellezza di un territorio che è un'eccellenza della nostra regione. Artisti di strada, possibilità di incontrare il turismo enogastronomico con l'arte, con la musica, con quello che ci è mancato in questi, purtroppo, lunghissimi mesi di pandemia. È un modo, è una sinfonia della ripartenza. Quindi grazie, grazie davvero per quello che fate. Non era scontato, non è scontato rimettere in piedi queste iniziative. Vedo la fatica che si svolge, che c'è da parte degli organizzatori, perché in ogni momento c'è sempre paura ancora dei rischi di contagio e quindi è più complicato del solito poter permettere alle persone di tornare alla socialità, alla vita normale. È altro canto garantire la sicurezza. Io davvero ringrazio tutti coloro i quali si stanno impegnando in queste settimane. La Toscana è un brulicare di eventi e davvero si sente forte la voglia di ripartire, ma di farlo in sicurezza. Questa manifestazione arriva al secondo anno ed è un momento molto importante perché si consolida un'esperienza che è nata l'anno scorso in piena pandemia. Il premio è forse l'unico caso in Italia, se non in Europa, di un premio che nasce durante i mesi del lockdown come risposta al disagio che hanno provato le categorie, i lavoratori dello spettacolo, gli artisti, ma non solo gli artisti, anche le maestranze, in un lungo periodo di silenzio e di lontananza dal pubblico. In quel momento è nata l'idea di riportare luce su questa categoria e al contempo anche di riscoprire un turismo di qualità per il territorio della Toscana e quindi unire le due cose in un'area particolare come quella del Chianti Senese grazie anche a un'imprenditrice che è Laura Cellerini che ha avuto proprio questa idea di unire gli elementi dell'enogastronomia, del vino che costituiscono proprio il premio, e questa è l'altra particolarità, agli artisti, alle stelle dello spettacolo dal vivo. Lo scorso anno siamo andati in scena il 9 di agosto, l'8 e il 9 di agosto, ed è stata un'edizione molto partecipata. Quest'anno pensavamo di essere in una condizione diversa per l'epidemia, invece purtroppo ci troviamo sempre davanti ai soliti problemi. I lavoratori dello spettacolo non solo hanno vissuto un periodo economicamente faticoso, ma hanno perso in qualche modo, soprattutto quelli, i lavoratori dello spettacolo dal vivo, il loro ruolo, la loro funzione sociale, il loro incontro con il pubblico. Questo premio vuole proprio valorizzare questi aspetti, ritrovare un incontro col pubblico, riportare centralità a questi artisti che sono le eccellenze dello spettacolo dal vivo, ovvero sono tutti artisti con carriere riconosciute, che sono partiti e che ancora partono da quella che forse non è più molto di moda, che è la gavetta. Sono i giovani, sono artisti che vengono impegnati nelle principali produzioni del teatro musicale italiano, ma arrivano tutti da scuole, periodi di formazione molto lunghi in Italia e all'estero. I premi alla carriera sono ad artisti che hanno portato la nostra musica nel mondo, come Donatella Lamprese, che è una chansoniere forse più nota all'estero che in Italia, ha rappresentato l'Italia la cumbre mondiale del tango. Le sue tournee in Giappone sono state premiatissime, tant'è che nel 2008 la Fiat addirittura la scelse come testimonial della Fiat 500. Poi c'è Mariella Nava che verrà premiata alla carriera per la musica leggera, definita la poetessa delle note, credo sia una delle principali autrici e cantautrici della musica leggera italiana. Margherita Fumero, un'attrice nota per i suoi ruoli televisivi da Drive-In, dove faceva Margherita, la moglie di Enrico Beruschi, a Camera Caffè, ma è soprattutto un artista di teatro che ha iniziato la sua carriera nel teatro di commedia, di commedia musicale e di rivista accanto ad Erminio Macario. Quindi vogliamo proprio raccontare questo, il valore dello spettacolo dal vivo che vuol tornare a portare emozioni. Lo fa con questi artisti di carriera, lo fa con degli artisti giovani come sono Le Signorine, un trio vocale formato da Claudia Cecchini, Benedetta Anistri, Lucia Agostini, che sono tre performer di musical già di per sé note nelle produzioni nazionali, ma che hanno fatto questo progetto insieme, che è questo trio vocale. Antonio Lanza, una giovane rivelazione del musical, Simone Marzola, artista di teatro, ma anche uno dei principali doppiatori attualmente in circolazione per serie televisive, film e direttori di doppiaggio. Questo è il nostro intento e anche quest'anno uniremo lo spettacolo dal vivo, le muse, al vino, all'arte di Dioniso. Qui siamo in Toscana, dove Lorenzo il Magnifico scrisse il trionfo di Bacco e Arianna, che in qualche modo univa le due cose. I nostri artisti verranno infatti premiati, oltre che con un manufatto realizzato da un artista, da un artigiano del territorio, con una bottiglia di vino, una Magnum, che un sommelier sceglierà per ciascuno di loro, unendo quelle che sono le caratteristiche tecniche e umane dell'artista, dell'attore, del cantante, alle peculiarità organolettiche, alla struttura del vino stesso. Quindi questa è l'altra particolarità che ci unisce a Calici di Stelle, al mondo del vino. Le due cose vengono unite, le caratteristiche, i colori della voce, le sfumature umane a quelle che sono le caratteristiche organolettiche. Io condurrò, presenterò questa serata insieme a Maria Rita Scipetta e la direzione musicale è di Eleonora Beddini, che solo per farvi un'idea è stata la direttrice musicale del musical Mary Poppins, scelta proprio dalla Disney per essere la direttrice musicale in Italia del musical Mary Poppins. Io credo che un premio così, un evento così, sia un unicum in regione, forse anche, non vorrei dire, ma in Italia sicuramente per com'è nato, perché pensare a una manifestazione del genere, quando tutti eravamo chiusi nelle nostre case e personalmente quando successe, lo racconto, ero in mutande in terrazza quando mi arrivò la telefonata per inventarsi qualcosa, credo sia veramente qualcosa di straordinario. Speriamo ai prossimi anni di poter andare avanti senza questo fardello della mascherina e della pandemia che continua. L'anno scorso ho avuto la fortuna di partecipare al primo spettacolo di Marco Predieri e con l'assistenza di Laura Scellerini al comune di Castelnuovo Berardenga, nella sua piazza. Uno spettacolo, mi sono sentita una privilegiata a partecipare a quello spettacolo, di musica, di prosa, con delle scenografie che mi sono rimaste nella memoria per un inverno. Quindi ho visto il programma, sono ben contenta che venga riproposto anche quest'anno, sempre con nomi di rilievo. Ci portano a Castelnuovo Berardenga dei big dello spettacolo, dello spettacolo dal vivo e ci credo, sono sicura che realizzeranno come nel passato, come l'anno scorso, uno spettacolo che rimarrà nei cuori. Speriamo non più in un periodo di lockdown dove ricordiamo quando eravamo nelle piazze dell'estate all'aria. Che cosa vi voglio dire? Sono anche contenta che venga fatto a Castelnuovo Berardenga perché rientra, come sappiamo, il valorizzare i nostri centri nel programma di questa legislatura. La Toscana diffusa è un centro che è un simbolo della Toscana diffusa, il comune di Castelnuovo Berardenga, che invita turisti da tutto il mondo e che potranno così partecipare ad una serata diversa, lieta e soprattutto quello che io mi auguro e auguro loro è che questa iniziativa si consolidi. Si consolidi questo premio e la regione toscana lo sta facendo con il suo patrocinio, ci sta credendo e quindi in bocca al lupo perché questa iniziativa continui sia lo spettacolo sia questo premio. Questo premio che è un connubio, il connubio tra il mondo, la cultura del vino e la cultura dello spettacolo. Non è come abbiamo sentito una cosa casuale perché il vino verrà calibrato all'artista, quindi un connubio sicuramente felice e costruito che spero, ripeto, si consolidi nel tempo.